Nell'ultimo anno sono state perse 87 aziende, con un record negativo a Cagliari. Si tratta delle start-up, ossia le aziende di piccole dimensioni, che soprattutto nel mondo della new economy si sono lanciate sul mercato del lavoro con idee innovative, con particolare attenzione al settore delle nuove tecnologie. Se in Italia si sono registrati 10.587 start-up in meno nel 2022, ossia il 10,6% in meno, Nomeglio è andata a Cagliari, dove il 2022 si è chiuso con un saldo negativo del 18,4%, in pratica 87 aziende in meno. E' forse il risultato peggiore tra le 14 grandi città italiane prese in esame dallo studio le imprese nate nel 2022 e il contributo economico delle start-up, condotto da Cerved, il centro elaborazione di dati relativi alle nuove imprese. Nel report, infatti, a Cagliari restano solo 387 imprese identificabili come start-up. Non certo un caso isolato, ma di portata nazionale, anche se nelle altre città la perità è più contenuta e si attesta sotto il 10%, segnali che indicano un peggioramento delle aspettative legate in particolare alla guerra, alla crisi energetica e all'inflazione, che hanno frenato la nascita di nuove iniziative imprenditoriali, elemento cardine per comprendere la dinamicità dell'economia. Il calo delle nascite, infatti, è un indicatore da non trascurare proprio perché le start-up rappresentano una spinta alla trasformazione del sistema economico, introducono nuove idee, tecnologia e competitività.